4 dicembre 2017, si chiude così la mia battuta di pesca serale, peccato per la pioggia iniziale perché proprio quando pioveva stava per sorgere la luna e sicuramente qualche altro calamaro si sarebbe potuto fare, però la serata è stata abbastanza divertente e piacevole, dai, qualche bel pezzo, insomma, l'importante è sempre tenersi in forma. Nel frattempo colgo l'occasione di farvi vedere il mio milleriche come è combinato, un killer indiscusso per seppe e calamari, non perdona. Una buona serata a tutti, alla prossima!